E quindi la mia proposta, che può essere molto raffinata culturalmente, ma secondo me è assolutamente banale, è che bisogna europeizzare il cambiamento, cioè l'Europa deve impossessarsi delle idee di cambiamento e dare una risposta, perché altrimenti si de-europeizza la conservazione, cioè ognuno poi si fa i fatti propri, ciascuno ha le sue istanze, i francesi hanno alcune istanze, quella là del dominio del Mediterraneo. Non è sovranista il suo così però, non è allineato a quello che dicono Salvini, Di Maio. Ma eravamo insieme l'altra sera, hanno proiettato la dichiarazione di Salvini e di Le Pen, che erano europeista, non erano sovraniste, infatti ho rigirato la domanda a Bruno Vespa e gli ho detto, scusi mi spieghi cosa c'è di sovranista in queste dichiarazioni, che le posizioni che incontro all'interno del mio governo. Il discorso del sovranismo o il discorso di combattere l'Europa verrà fuori se non superiamo le crisi, questo è il punto. Ecco, a proposito di crisi.